ciao a tutti ragazzi e ragazzi finissimi video che vi dico la cammella reattiva qua sotto la cammella per i video e vi diamo un saluto ciao e ragazzi come vedete oggi siamo a Cinesi guardate la nostra operataria oh aspettate aspetta che adesso chiediamo aspetta ci siamo fermati qua aspetta che chiedo a google allora oggi ragazzi siamo qua a Cinesi e ci siamo messi e lui sta chiedendo il navigatore dice che ci fai a Cinesi poi fido poco lo sopra dove si trova via faro Pizzoli a Cinesi ecco una mappa di via faro Pizzoli 90.045 Cinesi parli ora il modo migliore per andare a via faro Pizzoli in auto è con il 90 il tragetto durerà circa 26 minuti con traffico scorrevoli come? sono a 26 minuti, 27 chilometri ma che cazzo stai dicendo? chi è? oh è possibile? dai è troppo amato tieni qua non si dice parolaccia non si dice parolaccia allora via faro Pizzoli numero 27 allora via ragazzi aspettate che chiuda google vedi ragazzi sono dei ragazzini qua quanto disse via faro Pizzoli? siamo persi guardate la nostra cosa questo è Cinesi guardate due minuti due minuti sono siamo a 500 metri passando per Cossombetto dai due minuti due minuti siamo a 500 metri dai due minuti questo è Cossombetto allora la mia posizione la mia posizione vediamo cosa facciamo? vedete 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 siamo persi perché devi andare in questa via dove c'è l'opulista dove c'è l'opulista io abito in Palermo in Palermo intanto non so perché cacciofilo ci ha fatto al Cinesi non so perché dicevo perché la Palermo vivellizziamo più si ma è meglio Palermo non ci rischia adesso ci perdiamo perché noi non viviamo qua non abbiamo la seconda casa cosa facciamo adesso? allora fai così papà parta eh parti eh papà parti e vedi a quanti chilometri arriviamo zitta a me 100 500 metri siamo quindi rio a farlo 500 metri cosa? e me ne vado va bene il cappone il mio zai letto e io me ne vado ciao ciao allora vediamo cosa c'è il mio zai letto e l'acqua e l'acqua però non sapete che può uscire da quella qua c'è fio di pasta banca san paolo aspettate chiudiamo ah perché io prima una volta avevo fatto un video ma quella quattro anni fa eh che avevo aperto la bottiglia avevo aperto la bottiglia ed ero in macchina avevo aperto la bottiglia mi sembra cosa e poi perché sto sotto per te ragazzi ecco lì questo zainetto sono due adesso ciao ma mangiamo loco cosa c'è oh il pane papà muove più il panino con l'iniziatra ma non senza niente quindi adesso non ha manco gusto ma c'è lo stesso siamo vicini tu non ti muovi non siamo più vicini ah qua siamo in costumbetto giusto cosa vuoi scrivere? costumbetto mi dice qua la posizione siamo vicini quindi per costumbetto via farò pizzoli tieni qua vai toglilo questa video no no dai cade se le zompe toglilo che cade c'è quello c'è quello la spezzatura oddio quinti non sei facciamo un fila e se lo sei là allora come siete commentati tutti qua sotto se siete se se vi siete mai persi in un posto ne ho bisogno più chiedere signori signori qua siamo non c'è scritto la via via novembre c'è una chiesa no è un municipio c'è un municipio un municipio un municipio eccolo la via farò pizzoli l'ho trovato dove? vai c'è scritto c'è scritto ti meto di sosta dalle 17 alle 24 del 14 cammino di sosta ti meto di sosta signori no vabbè è il 24 che cosa faccio? se io venire qua mi maschera i tutti questi cottelli sono il vetro di sosta disabili cosa voi sapete ma dove abito io ci sono tutti disabili manco un postaggio libero c'è per posteggiare che noi non abbiamo la macchina disabili noi abbiamo la macchina normale quelle che hanno quasi tutti che non abbiamo nessuno che ha le stampelle o la carrozzella o altre cose accetto accetto ragazzi io accetto è una cosa quella che sei sopra le strisce pedonali ok via andiamo capito perché hai c'è solo luce vai via tipo tu la provino la città ahhh mi sta facendo ragazzi aspettate 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 e io dove l'ho lasciato la bossa a casa vedete io ho buttato l'acqua devo tornare io perchè se non ce l'ho io mmmm come si chiudeva c'è il giù come si chiudeva via sembra un ristorante fa una filona allora usciamo per io mi chiamiamo Maria che fretta ma no per io si vola dai giubbotto dai via mettete qua dai dammi pure questa mano no dai questo è la telecamera è il telefono stai con io ok via mio papà ma chi è? femmina o maschio? guardate ho i capellini dai guardate c'è una pazza i capelli non mi raccordo guardate dai via mi piacciono le sono fatte lì aspettate metto questo metto una pazza aspetta non voglio fare la fine per sempre eh guardate guardate che cazzo vedete questa no ecco l'acqua ecco l'acqua ecco l'acqua ecco l'acqua dobbiamo fare vado in realtà vuole entrare non ci voglio entrare non ci voglio entrare no no vabbè ragazzi che mi ravviado perchè è dove vedo dentro questo posto tu toccola eh aspetta me ma dove stavi andando la cosa di l'anno perché c'è un peggio che è buonato e mi piacendo che la panchina guardia che è freddo, mamma mia guardia che è freddo, è pronto di non morire la città adesso la faccia mania mania aspetta aspetta ma aspetta non c'è ragazzo ma non c'è l'anno io termino il video poi faccio l'altra parte che sono là dentro mi raccomando mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale se non volete partire vi lascio un video ciao